Ciao Mucco Pallino, benvenuti a Giovi per la prima edizione della Festa della Primavera. I bambini del Plesso hanno illustrato agli ospiti un percorso sulle erbe mediche collegandosi anche a quelli che sono i principi della scuola medica salerditana. Abbiamo messo a dimora un bel po' di piantine che abbiamo curato per circa tre mesi, li abbiamo portati alla crescita e stamattina i bambini hanno illustrato ai loro coetani come è avvenuto questa fase di lavorazione. Nell'ambito di questa manifestazione i bambini della quinta classe hanno scoperto una targa a loro intitolata con i loro nomi perché hanno messo a dimora una pianta così da poter far sì che la loro crescita possa essere la stessa crescita della pianta. E' un lavoro che gli insegnanti stanno facendo con grande impegno e con passione. Mi pare che l'entusiasmo dei ragazzi e anche quello degli insegnanti e dei genitori sia sottolineando la bontà dell'iniziativa e speriamo che l'anno prossimo possa crescere ancora di più.